Cosa c'è adesso nel futuro del Centro Chirurgico Toscano? Nel futuro del Centro Chirurgico Toscano bisogna sempre guardare avanti, quindi mantenersi al passo con la tecnologia, con la modernità. Noi abbiamo chiesto a Joint Commission, che è l'ente che accredita gli ospedali degli Stati Uniti d'America di venire da noi, per giudicare se la presenza delle attrezzature, l'organizzazione del lavoro, insomma tutto quanto fa l'ospedale, è all'altezza di un ospedale degli Stati Uniti oppure no, è bonta loro, ci hanno detto di sì. Dieci anni di attività, questo l'importante traguardo raggiunto dal Centro Chirurgico Toscano, era infatti il 25 aprile 2011 quando è entrato il primo paziente. Dieci anni fa facevamo circa 3.200, 3.300 interventi chirurgici all'anno, adesso ci avviciniamo ai 7.000. Il numero di pazienti per ciò che viene da noi si è raddoppiato, specialmente in favore di pazienti che vengono da lontano, da lontano intendo dire da fuori della Toscana. La complessità degli interventi, c'è un numero che indica la complessità media, dieci anni fa era 1,2 circa, adesso è intorno a 1,6. Tenete presente che la media nazionale di complessità è sotto dei reparti chirurgici, è inferiore a 1,4. Si è anche allargata l'offerta resa dal Centro? Il numero di interventi chirurgici definiti di alta complessità, non da noi, definiti di alta complessità dal Ministero della Salute, è oramai superiore, quindi più del 50%, rispetto agli interventi di minore complessità. Questo per carità siamo consapevoli, non siamo San Raffaele di Milano o il Policlinico Gemelli di Roma naturalmente, però la complessità media dei nostri interventi è all'incirca quella di questi ospedali, anzi rispetto a uno dei due è anche qualcosina di più. I numeri, sto parlando solo di chirurgia, sono inferiori ma sono quelli di un normale ospedale che una volta veniva definito provinciale. Dieci anni di storia, nell'ultimo anno avete fatto i conti anche voi con il Covid, è un po' cambiata la struttura, avete dato una bella mano alla sanità pubblica. L'ospedale di Arezzo, gioco forza, è dovuto diventare un ospedale per accogliere i pazienti Covid e ha fatto veramente salti mortali per separare i percorsi dei pazienti Covid da quelli non Covid che comunque ci devono rimanere, pensiamo alla maternità. E conseguentemente gli spazi per la chirurgia normale sono fortemente ridotti. E quindi l'anno scorso per tre mesi tutta la chirurgia dell'ospedale di Arezzo si trasferì da noi. Tra l'altro molto rapidamente perché i tempi, tutti se li ricorderanno, dell'emergenza furono molto rapidi. Da novembre del 2020 a tutt'oggi si è trasferito una parte importante, credo senz'altro più della metà degli interventi chirurgici che sarebbero stati fatti all'ospedale San Donato, dando modo di utilizzare le sale operatorie dell'ospedale pubblico come rianimazione quando ce ne fosse stato bisogno e più che farci piacere ci rende orgogliosi.